Anche durante le festività natalizie Masterchef non va in vacanza e questa sera su Sky 1 va in onda la seconda puntata della Masterclass degli All-Star formata da Maradona, Rubina, Maurizio, Demi, Alberto, Simone, Alida, Ivan, Michele, Su Lego.it le ultime anticipazioni. La Masterclass sarà divisa in due brigate che dovranno preparare i piatti della tradizione locale che verranno giudicati dagli abitanti del posto. Grazie a tutti.